850 di questi anni Valdo è il titolo di una pièce teatrale che il gruppo teatro della Chiesa Valdese di Genova e amici e simpatizzanti ha proposto già questa mattina in una versione ma replicherà questo pomeriggio quindi siete ancora in tempo a venirli a vedere sempre qua, sempre in Piazza Settembrini di fronte alla Chiesa Valdese di Genova a San Pierdarena fino alle 18.30 rimarremo qui quindi passate a trovarci se siete in zona oppure insomma rivedrete poi vari immagini, testi e video immagino online Giorgio Ansaldo, buongiorno, insieme a te abbiamo anche Francesco Nardi, Giorgio tu hai rimesso un po' su un gruppo teatro nella Chiesa Valdese di Genova Guarda, inaspettatamente alcuni anni fa, ormai sono sette anni da quando abbiamo il pastore William Jourdan con noi sono nati dei talenti che io effettivamente ho pensato di riunire Sì, assolutamente, quindi stiamo già preparando il quinto spettacolo ed è un onore poter dire che la Chiesa Valdese di Genova ha un gruppo teatrale piuttosto attivo perché appunto c'è stata la scoperta di vari talenti tra cui Francesco che non fa parte proprio del gruppo teatrale ma fa teatro per conto suo come anche l'altro fratello Federico Risso che ha recitato con noi stamattina ma fa parte di un altro gruppo Siamo comunque sempre pronti a riunirci per fare della testimonianza anche attraverso il mezzo del teatro E ad accogliere eventuali nuovi adesioni Certo, a volte cerchiamo Se qualcuno fosse incuriosito viene in contatto, trova la pagina, immagino Facebook, il costato della Chiesa Sai che cosa? A volte Un passaparola C'è un passaparola, c'è la ricerca proprio quando prendiamo su un testo, ad esempio quest'anno abbiamo fatto Pirandello e Lazzaro e ci mancava due personaggi, allora abbiamo sparso la voce e abbiamo effettivamente trovato collaboratori anche, dico la verità, anche all'esterno delle Chiese che però sono diventati i nostri simpatizzanti Questo spettacolo che invece avete proposto questa mattina e che ricordo riproporrete questo pomeriggio alle 16 850 di questi anni Valdo, Francesco come nasce? Cosa racconta? Possiamo immaginarlo dal titolo qualcosa ci dice già L'occasione era troppo ghiotta perché io scrivo già per il teatro Gran lavoro di sintesi direi Sì, infatti volevamo proprio portare la storia del movimento valdese e naturalmente per condensarlo in così pochi minuti perché dura tre quarti d'ora circa c'era bisogno di un pretesto narrativo e ho pensato ai viaggi che facevano i Barba E allora ho immaginato di non fargli fare un viaggio nello spazio ma nel tempo Così con questo pretesto narrativo interagiscono tra di loro C'è il Barba più anziano, il regidor Qui presente Giorgio Qui presente Giorgio e poi ci sono io, Bartolomeo, il co-adutor E quindi questo può dare anche dinamica perché scherzano anche tra di loro A volte si arrabbiano pure A volte sono presi dalla mistica proprio del loro cammino Che non è un cammino nello spazio ma appunto nel tempo Quindi vedono i cambiamenti, vedono la storia che passa davanti a loro Esatto E questo è rafforzato ogni tanto anche per dare dinamica allo spettacolo Da una voce narrante che è Willy Jourdan Che racconta proprio come un deus ex machina Cioè praticamente fuori dal tempo Racconta oggi che cosa stava succedendo Mentre i due Barba stavano dialogando tra di loro Mi piace sottolineare il fatto che l'inizio della lettura teatrale E la fine della lettura teatrale è la voce di Dio Una voce biblica Volevo proprio che fosse l'alfa e l'omega Proprio dall'inizio alla fine Poi in mezzo ci siamo noi umani e cristiani Che compiamo il nostro cammino Ma la voce biblica all'inizio e alla fine era fondamentale E questo spettacolo a parte oggi pomeriggio dove lo porterete? Perché immagino abbiate in previsione qualche appuntamento Guarda oggi visto che c'era l'occasione ghiotta importante È stato un reading quindi l'abbiamo letto Ma naturalmente questo non esclude che lo spettacolo potrebbe anche ampliarsi E diventare un vero e proprio spettacolo drammaturgico Devo aggiungere che quello che ha di bello questo tuo testo È che racconta delle cose molto importanti e molto serie Però alterna momenti diciamo drammatici a momenti giocosi Che lo rendono più accessibile a tutti Sì, anzi sarebbe anche bello se anche altre chiese Altri fratelli, altre sorelle volessero metterlo, portarlo Sì, ma infatti lanciamo, no? Lanciamo, sì, sì, è di tutti noi Potete approfittarne, ecco Sono a vostra disposizione Chiamate il gruppo teatro della Chiesa Valdese di Genova E loro verranno a portarvi uno, due, tre, quattro, cinque spettacoli Quanti ne volete? Ne hanno? Se lo vogliono fare anche loro, diciamo, sono liberi Ecco, grazie, grazie ad entrambi Grazie Francesco, grazie Giorgio Buon lavoro e buona continuazione Grazie, sempre un piacere vederti Grazie Ciao, ciao